In collegamento dalla sede RAI di Ancona, buonasera. Buonasera. Allora un'iniziativa unitaria dei sindacati per una situazione che voi definite non più rimandabile. Beh sì, sono quattro mesi in cui si continua a giocare uno scaricabarile molto pericoloso. Il governo ha cercato prima il parere dell'ANAC, poi dell'Avvocatura. Sono state tante le cose che ha cercato di fare pur di non riavviare quello che è necessario e cioè il negoziato tra le parti garantendo la stessa cornice di affidamenti che c'era con il precedente governo. E per questo unitariamente Finfion, Wilm e USB abbiamo chiesto un incontro urgente con insieme anche l'azienda ma a condizioni che il governo chiarisca se la gara è legittima o meno. Non può cercare di scaricare il barile a questo punto su sindacato e imprese quando ci chiede di fare la trattativa con un'azienda che ha acquisito appunto ILVA attraverso una gara illegittima. Se è illegittima il governo annulli la gara. Se è legittima invece lo dica e così si può procedere a andare in fretta verso l'accordo che è necessario sottoscriverlo entro il 15, altrimenti sarà un disastro. Certo, il 15 settembre quando ArcelorMittal subentrerà alla gestione commissariale ma se il governo non vi convoca avete annunciato una mobilitazione, insomma pensate a uno sciopero? Assolutamente, i lavoratori non possono attendere l'inerzia e questa irresponsabilità con cui si sta gestendo da parte del governo questa vertenza. Le opere ambientali sono state rallentate, l'azienda sta perdendo commesse e per cui sia ambiente da un lato sia occupazione rischiano di non essere avvantaggiate da una gestione così irresponsabile. Per questo è ovvio che i lavoratori non possono stare con le mani in mano bisogna che difendano l'ambiente, l'occupazione e la possibilità di sviluppo. Chiudere un'azienda che è al sud come Taranto, ma ricordo a tutti che il gruppo è a Genova, a Novi Ligure, a Racconigi, a Venezia, significa costruire un'ex bomba ambientale ma trasformarla anche in una bomba sociale assolutamente ingestibile. Per cui il 15 sarà una deadline molto importante. Lei lo ha accennato adesso, oltre due anni dall'inizio della cessione di ILVA qual è la situazione nello stabilimento? Quali le criticità dell'ILVA che vi preoccupano di più in questo momento? La fabbrica è sotto amministrazione straordinaria e l'azienda perde un milione di euro al giorno sono soldi ripianati dall'amministrazione straordinaria attraverso denaro del contribuente questo è inaccettabile perché l'azienda poteva essere ceduta molto tempo prima bisogna sapere che quando il governo farfuglia su queste cose sono le tasse degli italiani a pagare questa cosa, ripeto, non si stanno mandando avanti le opere ambientali e la cosa ancora peggio, sentivo prima Salvini in conferenza stampa che difendeva i colfini, in realtà i confini dell'Italia economica e industriale quella un po' più importante per il lavoro, si sono sgretolati perché la domanda di acciaio in Italia in questi ultimi due anni è cresciuta e stiamo importando acciaio dai tedeschi per costruire le automobili che vengono prodotte in Italia per cui sarebbero anche questi confini da difendere in realtà mi sembra proprio che il governo sull'economia e sull'industria non abbia messo veramente la testa e questo è molto pericoloso inoltre il commissariamento ha una gestione pessima della manutenzione dentro lo stabilimento un impianto siderurgico è di per sé pericoloso e non fare la manutenzione significa renderlo molto pericoloso per i lavoratori gli incidenti sono aumentati, i feriti e purtroppo le morti in questi ultimi anni sono aumentate questo non è assolutamente tollerabile, lo abbiamo detto purtroppo invece il ministro Di Maio ha prorogato di altri tre mesi appunto fino al 15 settembre la gestione commissariale Ecco abbiamo detto la deadline il 15 di settembre ma se l'accordo con Mittal rimanesse quello fissato con il vecchio governo che cosa accadrà? Ma quello era un contratto in realtà che prevedeva nelle sue clausole la possibilità di essere migliorato dall'intesa sindacale la trattativa si è bloccata da maggio quella sindacale proprio a causa delle incertezze rispetto al futuro dell'ILVA della nuova compagine di governo queste sono da chiarire dopo il 15 settembre ci sono due scenari il primo appunto è che l'azienda prenda possesso dello stabilimento senza accordo sindacale queste le responsabilità saranno sì da un lato della rigidità aziendale ma dall'altro sicuramente di quattro mesi assolutamente buttati da parte di questo governo l'altra possibilità invece è che il governo proroghi ulteriormente il commissariamento e i commissari per prendere ulteriore tempo a spese dei contribuenti proprio perché in questo periodo ha cercato qualcun altro che chiudesse il dossier ILVA al posto proprio il governo invece deve assumersi le sue responsabilità soprattutto di decidere decidere se l'ILVA deve avere un futuro un futuro ambientalizzato l'unico che consentiremo o seppure l'ILVA deve chiudere non può tenere il piede in due scarpe questo rischia di essere assolutamente dannoso per l'economia, per l'ambiente e per l'occupazione dei lavoratori Mettivoglio un'ultima domanda esiste l'eventualità che Mittal rinuncia all'investimento e che subentri così un altro concorrente? ma io credo che sia impossibile Mittal grazie a tutta questa situazione è stata messa in una condizione fortissima è il sindacato che è stato indebolito da questi quattro mesi di tentennamento Mittal non se ne andrà mai via tenderà di essere cacciata per prendersi i soldi sempre a spese dei contribuenti italiani di penali costosissime per una rescissione illegittima del contratto fatto con lei questo sarebbe un ulteriore autogol che purtroppo la politica non paga ma pagherebbero gli italiani come sempre e come da troppi anni con le loro tasse grazie a Marco Bentivogli segretario generale della FIMCIS Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti